Cactus per tutti! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Continua la nostra avventura nel mondo dei disegni a penna Oggi faremo insieme tre piccoli bigliettini dipinti a mano e disegnati a penna Soggetto rigorosamente dei cactus Prima di spostarci sul piano da lavoro o da chiederti una cortesia Per favore condividi tutti i video di Arte per Te che ti capita di guardare Perché questo aiuterà il canale a rimanere visibile E far circolare il messaggio creativo che voglio lanciare e lasciare sul web Se credi che Arte per Te sia un canale meritevole di essere divulgato Aiutami a divulgarlo, aiutami a farlo conoscere Quindi grazie a tutti coloro che mi daranno una mano in questo E grazie a tutti coloro che mi verranno a trovare anche su Instagram Cercate anche su Instagram Fondo rosso, pennello bianco e la scritta Arte per Te E vi si aprirà il mondo creativo in foto di ombretta Tutte le anticipazioni dei video e tanto altro vi aspetterà anche dall'altra parte E sarete i benvenuti anche di là Ora però basta parlare, occupiamoci dei nostri cactus Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere il cactus a penna come si fa Ed ecco l'occorrente per creare i nostri biglietti ad acquerello Oggi utilizzeremo come acquerelli i Watercolor Pentel Arts Che sono degli acquerelli in tubetto, vedrete, molto belli Se volete la recensione lo trovate dove ce l'hai col pallino E soprattutto sono molto vivaci Li accompagno ai pennelli della serie Nettuno di Intoretto E al blacqua brush della Pentel Una matita, una gomma, delle penne che tengano l'acqua Quindi waterproof Io sto usando le Staedtler e utilizzerò la 01 e la 07 Acqua, un piattino per mescere gli acrilici e fare i guazzetti E poi tre bigliettini che ricaverò da carte per acquerello Sono della grandezza 10,5 x 10 Come carta potete usare o della carta in cotone Come potete vedere questo blocco fabbriano Io invece userò la Watercolor 100% carta acid free Questa della fabbriano che è più chiara dell'altra E quindi mi piace di più per la resa Un righello e ovviamente un compasso Prendo il centro dalla mia card Tracciandola a diagonale E segno una circonferenza iscritta all'interno del quadrato Quindi attenuo il colore della graffite E comincio a disegnare il soggetto Il primo soggetto che faremo insieme è il cuscino di suocera Un bel cactus tondeggiante Con un fiorellino Appena sono soddisfatta dell'orma che ho dato Ripasso a penna E ne certifico meglio le forme Non badate al fatto che poi a un certo punto Mi discosti dal soggetto che ho disegnato Ma è normale ne disegni a penna Il disegno a matita serve soltanto per dare una traccia visiva Adesso aggiungo le spine E preparo i miei acquarelli Con un ensemble di verdi Bagno tutta la superficie del mio cactus Quindi faccio un bagnato su bagnato come primo passaggio Creo un guazzetto con un bel verde vivido E lo ripasso soprattutto nei bordi esterni Adesso io cercherò di passare il colore Lasciando una traccia più chiara Verso le parti interne tra strale spine Ovviamente anche la parte inferiore Vorrò farla più scura E anche la sommità Che andrò ad intensificare Rilasciando maggiore quantità di colori E soprattutto andrò a martellare un po' il colore In maniera differente Per dare diversità di nuance Poi quando voglio tirare su un po' di chiarore Tiro via l'eccesso di guazzo Con un pennello asciutto E lascio quindi le tracce più chiare al centro Vado ad intensificare tutti i bordi Piano piano Rendendo i toni sempre più scuri Spennello anche il fiorellino E poi man mano che l'acquerello si asciuga Io vado a rimettere e rimpinguare ancora colore E a lasciare sempre libero il tono chiaro tra le spine Adesso vado a definire un po' meglio con dei tratteggi a penna Il fiorellino e anche l'interno del cactus Ripasso il bordo Qui sto lavorando con la 01 Ma adesso tutto questo lavoro dovrà essere ripassato con una penna più spessa Intanto coloro con un rosa tenue tutto il margine esterno al disegno E adesso prendo la penna 07 e ripasso su tutto Adesso da asciutto prendo un bel verde vivido e ripasso le ombre Ripasso anche le spine con la penna a punta più grossa Per renderle maggiormente evidenti E tratteggio E voilà il nostro cactus è pronto per essere regalato Adesso facciamo i fichi d'India Che sono simbolo della mia terra E mi piacciono tanto come genere di cactus Sono molto semplici da creare nella composizione Articolate le pale come meglio preferite Le foglie del fico d'India si chiamano pale E poi immettete i chiaroscuri con acquarello bagnato su bagnato Con bagnato su asciutto invece definite con le ombre Quindi ripassate in un secondo momento con la penna Facciamo i puntini delle spine Qualche spina che fuoriesce dalla pianta Ripassiamo i bordi come sempre E adesso con la penna più spessa Ridefiniamo tutto Adesso facciamo un bellissimo aloe Una bella pianta di aloe Molto difficile nella composizione Per questa dovrete perdere un po' più tempo Per definire gli spazi delle foglie Che ripasserete poi tutte con la penna 01 Vi consiglio di prendere ad esempio qualcosa che trovate su internet Perché farla a fantasia è veramente difficile Ripassiamo tutte le foglie nella parte esterna con un verde salvia Diciamo così Quindi un verde un po' più spento Quindi con un verde ancora più leggero diamo l'interno Rimpinguiamo nelle ombre con un verde sporcato con un po' di nero E ripassiamo l'esterno Quindi circonferenza con penna 0,7 Riprendiamo non soltanto le foglie Ma anche rifacciamo gli scuri Che ci sono all'interno tra una foglia e l'altra Lì in basso vedete dove c'è il ceppo centrale Bisogna che da lì scaturisca del nero Ora firmiamo i nostri bigliettini Dove ci viene più comodo A me piace metterlo qui di lato Seguendo la composizione circolare E voilà Sono tutti pronti per essere regalati ai nostri amici Ecco qui una bella composizione estiva e fresca Di cactus che vanno tanto di moda Vi lascio le foto e ci vediamo dopo Visto che belli i nostri bigliettini Questi saranno dei bigliettini speciali Che io regalerò a tre mie cari amiche In compendio a un pensierino Ho voluto condividere con voi L'esecuzione di questo piccolo lavoretto Che non è nulla di speciale Ma sono molto molto carini E poi ricordatevi che un biglietto dipinto a mano È già di per sé un regalo Perché una piccola opera d'arte Anche questa incorniciabile È che rimane per sempre Certo dall'altra parte ci deve essere Anche una persona recettiva Atta a capire quello che si sta regalando Quindi sta a voi regalare alle persone giuste Le vostre opere Adesso basta parlare Vi aspetto anche su Ombretta Vi aspetto anche su Due Cuore e una K I miei altri due canali YouTube Vi aspetto in tutti i miei social Trovate tutto qua giù nell'info box Ma soprattutto vi aspetto sempre qui Per il prossimo video Da Ombretta e da arte per te è tutto Grazie a chi mi aiuterà E grazie a chi ha visto questo video Ci vediamo la prossima volta Ciao